Mazzurca, base della Mazzurca, è una camminata progressiva che il Cavaliere inizia con il piede sinistro in avanti. La posizione è quella che abbiamo fatto vedere prima, quindi posizione chiusa e la testa ben eretta. Ripeto, Cavaliere parte con il piede sinistro in avanti, esegue una camminata progressiva come esercizio che finisce con un passo stop. Prego! Grazie! Grazie!